niyan sono andato a mangiare da mossa di un scopo la pancia nyeCo in questo video avete il permesso di dire se mangi... quella rova diventò un ciccione e tra için kêtes ma questo potevo non posso fare altro perchè avessi maledie dirmi il pranzo a casa questo è un cinema little theater un teatro anni 50 un paio è staurato questo è il cuore di Jacksonville si chiama San Marco infatti palazzo mattoni vecchi brutti questa è la mia macchina se non l'avete vista molto aerodinamico la tardi devo ancora fare ci andrò presto e scaldola il momento è tutto ciao a tutti